spero che mi sentite bene oggi continuiamo l'altra scorsa abbiamo concluso il versetto 49 e oggi andiamo avanti con scusate andiamo avanti va e quando noi vi liberamo in arabo conosciamo tutti la parola significa liberare significa proteggere da una calamità da una difficoltà per questo motivo nella filosofia islamica per i musulmani ci sono due livelli uno è quello di cercare la salvezza e la parola per la salvezza è najat questo è il primo passo e la seconda parola è fatah o falah che significa conquista o vittoria nel corano per i fedeli la parola è quella che abbiamo cercato che dovrebbe essere la vittoria la conquista che un fedele cerca e non soltanto la salvezza cosa è la differenza e questo nella nostra vita quotidiana ci deve aiutare a trovare a capire bene che quando noi cerchiamo najah dalla noi la chiediamo soltanto di proteggersi dal male questo è una se in una guerra noi andiamo e il nemico è molto più grande e molto più difficile di noi e più più forte di noi se noi riusciamo a tornare a casa in sicurezza allora siamo stati salvati abbiamo avuto najah mentre i musulmani infatti anche se il nemico era più grande lo hanno conquistato per questo motivo per loro la parola falah viene utilizzata e questo è importante che noi nelle nostre preghiere anche non dobbiamo veramente chiedere najah la salvezza perché la salvezza o la parola najah in sé ha anche il senso di chiamare un pericolo una difficoltà e poi essere salvata da essa e questo è una vita abbastanza un livello di vita bassa di solo proteggersi dal male per questo motivo noi nella nostra preghiera chiediamo falah falah è la conquista che non è che noi tutta la vita combattiamo il diavolo anzi noi lo dobbiamo conquistare questo è il significato delle parole del jayunakuf qui volevo condividere magari una storia interessante che ha utilizzato una volta a spiegare a un certo punto che un discepolo è andato ad un santo ha rimasto ha imparato la religione e poi è tornato quando tornava a casa il suo maestro lo ha chiesto una domanda ha detto che senti se tu ora tornassi a casa e non appena che arrivassi a casa il diavolo ti sussurra qualcosa cosa faresti lui dice che io cercherò di non ascoltarlo di combatterlo di non fare niente e non seguire il diavolo lui rispose che va bene allora allora se riesci a non ascoltare o salvarti dalle trappole del diavolo cosa faresti quando il diavolo ancora una volta cerca di farti male e poi il discepolo ha ancora risposto che io lo cercherò di salvarmi non so cercherò di combatterlo anzi non so non saprei dire qualcosa di essere e il santo e il maestro lo risponde va bene hai fatto bene e ora che lo hai combattuto poi sei andato avanti e poi il diavolo ancora ti ha messo un'altra un'altra difficoltà un'altra tentazione cosa faresti e ancora una volta il diavolo risponde il studente lo studente risponde che farò ciò faccio la stessa cosa non so maestro cosa cosa è la risposta che devo dare non ho altra risposta su questo il maestro dice che senti quando tu per andare a casa del tuo amico non potresti entrare dal cancello perché il suo cane ti abbaia e lo cerchi una o due o tre volte ma ogni volta quando ti avvicina e avvicinai alla porta viene il cane e ti fa uscire dal cancello o scappare dal cancello in questo caso cosa faresti e il discepolo ha risposto che in questo caso io chiamerò il padrone di casa mio amico di prendere il suo cane controllarlo così che io possa entrare a casa del mio amico e ha detto eccomi questa è la risposta invece di cercare di combattere il diavolo in ogni piccola battaglia che alla fine l'unica cosa che riuscirai è di averneggiato allora la salvezza per poco tempo mentre che lui si prepara per un'altra volta perché non chiami direttamente Allah che sarà lui a prendere il tuo diavolo in controllo mentre tu puoi passare e entrare a casa di Allah e questa è la filosofia nella parola di Najat quando noi parliamo a volte lo utilizziamo spesso nella nostra vita quotidiana ma la cosa che noi cerchiamo non è la salvezza o la liberazione ma la conquista la fallah allora questo è solo per spiegare la parola Najat poi andiamo a dire qui anche e anche qui il contesto dei figli di Israele che sono stati salvati dal popolo o la gente di Faraone ma una volta salvati fino ad oggi nella loro storia hanno dovuto cercare di liberarsi non hanno conquistato non sono riusciti a conquistare queste forze purtroppo allora andiamo avanti e qui Faraone Faraone è il titolo del re di Egitto non è il suo nome e il suo nome era Ramesis il secondo e per questo motivo nel Corano quando viene utilizzata la parola Faraona potrebbero essere due o tre diverse persone o qui è stato utilizzato piuttosto il titolo del re dell'Egitto che è il suo nome e solo non da confondere che questo non è il suo nome Yassu Munakum Yassu Munakum Vessarvi Farvi male Yassu Munakum Su Al-Azabe Azabe Tormento E Su veramente una atrocità Su quando le parole Yassu Munakum Su Al-Azabe viene dalla stessa radice che significa mettere una difficoltà veramente grave mettere una punizione veramente grave Yusabbehuna Abna'akum Zabbaha Zabbaha Normalmente significa ammazzare come si ammazza un anello o un animale ma non significa che lui ammazzava i figli di Israele come si ammazzavano gli animali li ha ucciso in diversi modi qui Yusabbehuna è più una tesi una parola per dare anche la connotazione che li trattava come gli animali non guardava i banis Zayil come umani ma trattava come animali e qui questa parola Yusabbehuna non significa veramente che ha ammazzato come si ammazzano gli animali ma li ha ucciso e torturato in diversi modi Abna'akum i vostri figli Yusabbehuna con Abna'akum significa banaticum significa che ha ucciso i figli e ha lasciato vivere le figlie va va e in valicum in esso balaun era una prova grande prova balaun una difficoltà una prova min rabbicum dal vostro signore azim una grande prova dal vostro signore qui volevo solo per chi è interessato che questo versetto si riferisce ad un ad un versetto del della Bibbia e una volta nella vita aver letto questo si si capisce anche come miracolosamente il profeta Muhammad sapeva di una cosa in cui nella sua vita non aveva accesso su quello che è scritto nella Bibbia nel libro di Esodo queste sono diverse versioni ma sono abbastanza simili e la situazione era cosa è successo sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe Egli disse al suo popolo ecco il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi significa che anche se il popolo di Faraone erano i capi ma il popolo di Israele e i figli di Israele loro avevano più bambini erano più numerosi e più potenti usiamo prudenza con esso affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsi nel paese così il Faraone aveva già una preoccupazione che loro devono possono diventare più il numero che noi siamo i capi di loro stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con i loro angheri Israele costruì al Faraone le città che servivano da magazzini Bitom e Ramses ma quanto più lo opprimevano tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva e gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele allora più che hanno cercato di dare lavoro duro per questo invece di indebolizzarsi loro sono diventati ancora più forti così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni in ogni sorta di lavori nei campi imponevano loro tutti questi lavori con asprezza il re di Egitto parlò anche alle levatrici ebrei delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua e disse quando assisterete le donne ebree al tempo del parto quando sono sulla sedia se è un maschio fatelo morire se è una femmina lasciatela vivere interessante che questo è proprio quello che dice il versetto che hanno uccido i figli e hanno lasciato vivere le figlie ma le levatrici temettero Dio non fecero quello che il re di Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi allora il re di Egitto chiamò le levatrici e disse loro perché avete fatto questo avete lasciato vivere i maschi le levatrici risposero al farone le donne ebree non sono come le egiziane esse sono vigorose e prima che le levatrici arrivi da loro hanno partorito Dio fece del bene ai quelli levatrici e il popolo si moltiplicò e divenne molto potente poiché quelle levatrici avevano temuto Dio e le fece prosperare le loro case allora il farone diede quest'ordine al suo popolo ogni maschio che nasce gettatelo nel fiume ma lasciate vivere tutte le femmine questo è una questo è l'episodio del farone allora si può parlare anche un po' ma ci allontaniamo molto dalla traduzione del corano ma solo vi do un spunto di pensare che la punizione completa per questo popolo non era solo di uccidere i figli ma lasciare vivere le figlie perché è una società in cui si sono più donne si ricomincia un disequilibrio nella società in cui si abbassa anche la moralità perché ci sono più donne che uomini e non ci sarà più il bilancio su questo e da questo tipo di immoralità delle figlie che crescono e hanno bisogno di sicurezza dagli uomini il concetto di famiglia si indebolisce e questo era anche parte del piano di farone di aumentare il livello di immoralità in questa società per vedere e vedere che loro tra di loro cercano e cominciano a combattere e così lui diventasse un più forte faraone è interessante anche in questi giorni a vedere anche alcune comunità che sono le minoranze che anche se vengono discriminate come nell'epoca dei figli di isele anche questi sono i popoli che stanno crescendo molto più forte che gli altri la vogliono e questo è un aspetto solo faccio solo una direzione dei pensieri ma poi abbiamo tutti la nostra scelta di riflettere su questo argomento poi è rimasto poco tempo ma proprio questo versetto di Vaizha Farakna Bekumu Al-Bahra Farakna questo è quel miracolo Vaiz and remember time ricordate Farakna we divided abbiamo noi dividiamo Bekum per voi Al-Bahra il-Mare Fa-anjainakum e vi salvamo la gente del faraone va mentre voi mentre voi stavate a guardare Allora anche qui significa Vaizha Farakna Bekumu Al-Bahra non entriamo ora nell'incidente del mare che si è diviso in due ha molti aspetti e molto interessante ma su questo ne parliamo un altro tempo dal punto di vista di traduzione del versetto è abbastanza chiaro anche qui la parola Fa-anjainakum e vi salvamo vi abbiamo salvato è interessante come ho spiegato all'inizio del vers che una ricerca deve ancora approfondire ma ogni volta quando la parola Anjainakum è stata utilizzata significava di essere salvati da una calamità e poi avere una seconda che ci aspetti per questo motivo per i figli di israel la parola Anjainakum è stata spesso utilizzata mentre per i musulmani la parola Fallah è stata utilizzata e all'inizio è spiegata un po' anche la differenza fra essere salvati e aver conquistato qualcosa e qui garaka 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 negare non chiara parole tutte le parole sono abbastanza conosciute e quando va adanà noi abbiamo promesso noi facciamo una promessa Musa a Mosè di 40 notti ma allora atta chastum atta chuzz ya chuzz 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 in urdu la parola chè ma chuzz chuzz significa prendere voi avete prezo al ajl il vitello min ba di min ba di in sua assenza anche questo è importante perché nel nel hadith c'è un hadith la nabi ba di e molti dicono che ba di significa dopo di lui ma qui anche nel corano ma in tradizione anche di altri musulmani qui la parola ba di è stata tradotta come in sua assenza non dopo di lui non è che Mosè è morto e loro hanno preso il vitello ma Mosè nella assenza di Mosè hanno preso il vitello e voi foste tra i trasgressori così anche ba di a volte viene detto che significa solo dopo la morte di ma anche qui nel corano ricordatevi di questo riferimento 52 che anche i non ahmad non possono tradurre la parola badehi altro che in sua assenza non significando la morte di Mosè ma soltanto il suo viaggio verso la montagna per 40 notti allora concludiamo oggi qui in chatala come sempre se ci sono domande mi potete chiedere tramite whatsapp e rispondo in chatala nei prossimi giorni nella prossima volta ci vedremo la settimana prossima insha lakala assalamuala assalamualaikum